I sogni impellenti, sogni come repellenti Non ho soldi o biglietti, pago di notte, sembro quello strano Non ho lieti ma una sbuccia in mano Perché schieti, per non rimanere a potrire sul divano Io gli chiamo rimedi, al contrario Se ci rimango esplode il cranio e lo sto salvo Ma è stato conforme a nessun formato Chi parla d'altronde è disinformato Le corde vocali che ormai sono più tese Dei pali che ho preso sul capo Quale tormentone, troppo tormentato Alle volte sembro tor addormentato Mangio una secca di terrore che ha il sapore di una pioggia torrenziale Il sole è solo ringraziato Passo a tutta bello città Alla gente grida disgraziato Uff, 91 cento È la bandiera che mi sono scelto Non solo perché ci sono nato Wir sind hier in Trapani, auf Sizilien Weil heute die Vorverhandlungen gegen vier Aktivisten des Schiffes Juventa Und gegen 17 weitere Personen anderer NGOs eröffnet werden Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet Sie hätten Beihilfe zur unerlaubten Einreise geleistet Bei einer Verurteilung drohen bis zu 20 Jahre Knast Was haben sie getan? Menschen vor dem Ertrinken gerettet Seit 1993 sind 45.000 Menschen gestorben Weil ein Versuch, ein sicheres Leben in Europa zu bekommen Weil Europa den Menschen sichere Fluchtwege verweigert I have been on the move I am still on the move I know what it means to be on the move I know what it means To take a boat, cross the borders And then cross the military Then be safe to be brought to safe land We have to campaign for the right to move And we have to say no to forceful migration Because forceful migrazi are the migrazi That are causing more deaths at sea More deaths at the European Union Even more deaths at EU states Our crews have managed to rescue More than 14.000 people in distress From already unseaworthy But then additionally overcrowded boats In the open sea And the prosecution is basically saying That the people we rescued Have not really been in distress That there was apparently No so called state of necessity Sea rescue can never be a crime There are so dimensions on the head As a signal I don't want anyone to come to the idea To protect people from the sea That is the hammer so high That they believe that people are afraid But obviously it is not afraid of people And that is also a good feeling Today we are here in solidarity With the 21 people on trial For facilitating freedom of movement In an absurd attempt of Italian authorities To criminalize any act of solidarity Towards people on the move Together with the Juventa crew Many people and organizations Are criminalized all over Europe For an act of solidarity on land and at sea However we must keep at the center of our struggle The fact that most of the people Arrested and criminalized Are people on the move themselves Young migrants who are arriving here in Europe Are also being criminal Simply because for instance They have driven a boat from Africa Or from Libya From Libya to Italy I think this is not a crime Because when you are in a situation That you have no means to escape And you are suffering You have no means but The only possibility is to escape So he dropped the boat and came here So he has saved all those people Probably if he had not dropped the boat To come to Europe Those people would have been killed Or something else could have happened to them In Libya So that is no offense to that Those people are to me They are freedom fighters Of course Of course I have no sense to escape Auch for me no But I am also the process At the same time Even though the 20th century After 20th century I am going to hold the boat I will go on a mission At the time when I will I can move on the day In Europa non sono tutti gli stessi, anche per il gioco. Ci sono anche molti amici, 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 amici. Ma c'è un'ottima media, c'è un'ottima, molti reporter, le giornate, ci sono oggi in Deutschlandfunk e amende in den normali Nachrichten, Grazie per aver venuto e per aiutare i giocatori di Juventa. Perché se questo trial ha un senso, il senso di informare la pubblica opinione di quello che succede qui, non è solo una questione di ciò che succede nel senso di Trapani, ma è una questione di ciò che succede qui. Oggi ho chiesto la prosecuzione di riconoscere la sua negativa opinione, per la presenza del pubblico nel senso di Trapani. La prosecuzione non è vero, che era la condizione per il giudice di dire, se le altre parti non accordano, non posso capire il senso di Trapani. Per il senso di Trapani, che tutti eravamo con noi, non è vero che tutti eravamo con noi fisicamente, è stato un sentimento supporto di sapere che tutti voi sono qui, e non è solo per noi, ma anche per tutti, che si chiama per i diritti dei migranti, o per aiutare le persone che si chiama in ogni modo. E ho spero che possiamo dare qualcosa di riconoscere, e che si chiama insieme, e in un'ultimo, winne questa combina. Grazie. Grazie. Grazie.